I 20 punti che alla vigilia della partita dividevano San Nazarese e Libertas Pes erano lì a testimonianza di un divario tecnico che si è rivelato superiore alle aspettative. 9 gol, 2 pali, un rigore fallito e 90 minuti che proiettano la squadra nero-azzurra tra le grandi favorite per il successo finale. Il festival del gol si apre già al quarto con Losi che risolve un'azione piuttosto confusa con un tocco beffardo in scivolata e che spedisce il pallone all'angolino. 5 minuti soltanto ed ecco servito il raddoppio. Bazzarini si libera di due avversari con irrisoria semplicità e inventa con il destro la traiettoria del 2-0. Ci pensa l'arbitro Mastro Rocco di Piacenza a riaprire la sfida punendo con il calcio di rigore questo contrasto maschio tra Grosso e Taranti in piena area di rigore. Sergio Poisetti non sbaglia dagli 11 metri. Qualche amnesia difensiva per i sannazaresi ma attacco mostruoso che ogni qualvolta trovi innesco produce danni in serie. Il servizio ad occhi chiusi sfornato da Luis Centi piazza Burzio a duello con Riboldi. 3-1 e sannazaresi che questa volta impiega un minuto soltanto per andare nuovamente a segno. Il poker è calato da Bazzarini. Errore da matita rossa per la difesa canarina sorpresa da una rimessa laterale e dalla velocità del fantasista di Agazzano. Gli uomini di pezza però lottano e rimangono appesi al match grazie al sinistro di Vargas. Non serve la Gol Technology per sancire come il pallone calciato dal giovane attaccante possa valere a ragione il 4-2. Risultato con il quale si chiuderà un primo tempo in cui Gallelli e Sochi vanno ad un passo dal pokerissimo. Si diverte il pubblico in tribuna mentre c'è più di una protesta sul tocco di mano che fa gridare la rigore in apertura di ripresa. L'ingresso di Bordi vivacizza l'attacco piacentino ma è adimi ad andare ad un passo dal gol del 4-3 con il suo destro a giro che si schianta contro il montante. Al 61esimo però ancora Burzio in venta e il suo cross diviene assist vincente per Losi. 5-2 e libertà spessa che sull'errore di Bordi da posizione ottimale intuisce che le speranze di rimonta possano considerarsi chiuse. Al 65esimo arriva anche il gol di Centi che confeziona la rete più bella del pomeriggio grazie alla preziosa assistenza di Bazzarini. Alla festa finale prende parte anche Bergonzi che intercetta il rigore di Poisetti. Il finale è di Salvatore che fa 7-2 con Bordi che centra il palo e manca l'ingresso nel corposo tabellino marcatori. 9 reti ed emozioni in serie a San Nazaro 0-0 inamovibile fino al novantesimo tra Niviano e Podenzano. Si passa dunque al girone A di seconda dove il pronostico pende dalla parte Valnurina ma la squadra di Manini specie nel primo tempo fatica a trovare spazi nell'attenta retroguardia trebiense. I ragazzi di mister Alberti ci provano in avvio con Bonanni la cui girata mancina d'azione d'angolo si perde appena alta. Identico destino per la maledetta accalciata da Boselli il pallone si abbassa con un niente di ritardo e sfiora soltanto la traversa di Brusi. Il Niviano si fa preferire rispetto agli ospiti e a metà frazione la bella iniziativa rifinita dal solito Bonanni mette in condizioni di sparo Modenesi sinistro da dimenticare. Si sveglia il Podenzano che sfonda sulla corsia mancina grazie alla bella combinazione Caputo-Bellotti. Il cross di quest'ultimo trova centroarea Agnelli che grazie a così Bojovic. Il gol arriva in chiusura ma l'arbitro Pareti ferma tutto. Bonanni si libera di Casaroli con una leggera spinta e così la rete dell'ex San Corrado è annullata. Tracce di Podenzano nel finale con Bojovic che si distende sul destro secco di Giacopazzi. Podenzano più convinto nel corso della ripresa. I rosso-blu vanno ad un passo dal vantaggio con l'incursione di Agnelli ma l'uscita valanga di Bojovic è ancora provvidenziale. Il destro da fuori di Luca Rigolli è invece poco convinto ma manda il pallone ad un palmo dal palo mentre l'ultimo brivido si registra ancora nell'area del Niviano. Rigolli protagonista sulla bella discesa mancina di Galetti ma ancora una volta Bojovic stoppa tutto. Per il Niviano un pari di prestigio, per il Podenzano uno stop che rischia di rivelarsi fatale per la rincorsa ai quartieri nobili di graduatoria.